Sindaco, un altro passo in avanti per Crodone, soprattutto per il nostro porto e il nostro mare? Assolutamente sì, un lavoro dell'autorità di sistema portuale. Io colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Agostinelli, come faccio sempre, perché in sinergia poi i lavori, quello che potete vedere tutti quanti, quindi lavori importanti, lavori che mettono in sicurezza il porto, ma che abbelliscono soprattutto il Porto Vecchio, una città che sta cambiando da questo punto di vista, sarà più accogliente per i turisti e per tutti quanti. Poi dobbiamo aggiungere che questi lavori che si stanno facendo sono lavori che mettono sempre più in evidenza Crotone, città del mare, Crotone, città turistica. Una città che punta veramente a un turismo di qualità, di eccellenza, ed è in questa linea, in questa direzione che stiamo lavorando. Ovviamente sono fondamentali i lavori di messa in sicurezza del porto, così come è fondamentale il ripristino delle condizioni dal punto di vista ambientale. Sappiamo che ci sono delle problematiche sui fondali ed è complesso, perché quando si ha a che fare di opere che vedono il Ministero dell'Ambiente, il dragaggio delle sabbie è sempre problematico. Però dobbiamo uscire fuori da questa situazione che io dico di emergenza e fare in modo che il porto di Crotone abbia la valenza che merita. Comandante, il nostro porto sarà rivoluzionato, c'è questa grande attenzione da parte del sistema portuale. Dobbiamo dire che in realtà noi puntiamo sempre sul mare, il mare è il nostro presente, il nostro futuro. L'autorità di sistema portuale sta operando da tempo nel porto di Crotone. Siamo in sinergia sia l'autorità marittima che l'autorità di sistema, unitamente al sindaco di Crotone. Tutti questi interventi consentono di aumentare il gradiente di sicurezza nel porto a partire dal primo intervento che è stato già realizzato del livellamento dei fondali che hanno consentito di superare alcune criticità all'ingresso del porto vecchio. Ci sono attività in corso per quanto riguarda la banchina, riguardanti i pescherecci e altri interventi che sono ancora in corso d'opera. E quindi, insomma, è importante questo per il nostro porto, è importante per la nostra economia, dobbiamo dire, e soprattutto perché il nostro mare è sempre un punto di riferimento per tutti. Ma è importante questa sinergia che c'è tra tutti i soggetti coinvolti perché quando si opera congiuntamente come si sta facendo qui su Crotone i risultati sono ben visibili.